Amici di Twitch, buonasera a tutti, tanto ormai Andrea tu non sei una persona, tu non sei una persona, tu sei una zanzara, un ronzio continuo, quindi non mi dà neanche più fastidio quando mi rovini lì Un disturbatore, una vecchia suocera come ha detto ieri Claudio Moneta, sei una vecchia suocera, eh ragazzi ragazzi che Purtroppo ognuno ha il suo ruolo, ognuno ha il suo ruolo, esatto Buonasera a tutti, buonasera a tutti e benvenuti, come state? Come state questa sera? Allora, veniamo da una settimana spettacolare, ve l'avevamo annunciato e questa sera abbiamo un ospite non stellare, di più, che ringraziamo fin da ora di avere qui ed è un piacere, un onore poter ospitare Massimo Corvo, quindi grazie mille Massimo per essere qui con noi Grazie a voi per essere qui con me È veramente un piacere Prima di iniziare però la diretta andiamo a ripetere, innanzitutto andiamo a salutare i mod e a ringraziarli per l'ottimo lavoro che svolgono Quindi fatemi salutare Fanpage, Fanpage, Dopt e Chiara, quindi ciao ragazzi quelli che vedo connessi Un saluto anche ai VIP che hanno il loro bellissimo saluto personalizzato Quindi mi sembra di vedere, fatemi vedere Lost Boy Under the Hood Ciao, ciao Macro Idrovolante Carissimo Come state? Ovviamente un saluto anche a tutti gli altri che ci stanno seguendo Ciao a tutti gli altri Anche Michael, ciao Michael Ma perché Michael non ha il badge da VIP? Te lo devo aggiungere Michael, ricordalo Bisogna rimediare Bisogna rimediare, bisogna rimediare Dopo durante la live te lo aggiungo Ciao ragazzi a tutti Che bella notizia Allora, velocissimi comandi, velocissimi comandi Punto esclamativo Telegram Rimanda al nostro canale Telegram ufficiale Dove in anteprima rispetto a tutti gli altri social Avrete che cosa? La programmazione, le locandine degli ospiti Gli eventi digitali e in loco in cui siamo convolti Ma avrete anche momenti clip, momenti meme Vi prepariamo al nostro ospite, ai nostri ospiti Ad esempio oggi per massimo abbiamo messo una bellissima clip iconica Tratta dal primo Matrix dove Neo incontra per la prima volta Morpheus E c'è un discorso meraviglioso che termina con pillola rossa e pillola blu Quindi veramente la storia, la storia del cinema italiano E poi questo è il canale Telegram Andrea, invece il punto esclamativo sub, che cosa fa? Inizierei col dire, vediamo se mi ricordo come si fa Vediamo Allora, il punto esclamativo sub rimanda ad un link Con cui è possibile sottoscrivere un abbonamento a questo canale L'abbonamento ha un costo crescente da 3,99 euro fino a 18,99 euro E ovviamente in base al livello della sub ci sarà una scontistica differente sul merchandising 5, 10, 15% Ma indipendentemente da quale livello invece i vantaggi sono Emotico personalizzato in chat L'assenza di pubblicità in diretta Quindi nessuno dei nostri discorsi verrà mai interrotto da quelle fastidiosissime pubblicità Potete recuperare tutte le dirette che abbiamo fatto da qui a due mesi Nel passato ovviamente, nel futuro è ancora impossibile Ci è ancora impossibile E soprattutto potete entrare nel gruppo esclusivo Telegram Che è un posto dove ci ritroviamo per discutere di film, serie tv, cinema, costumi, fumetti, disegni Tanto, tanto, tanto altro Non solo noi del team insieme ai nostri abbonati Ma anche alcuni ospiti che abbiamo avuto in precedenza Come per esempio Carlo Cosolo, Massimo Trigiani e Lorenzo Crisci Esatto, esatto Un bel posto Quindi ragazzi, è il costo di un paio di caffè al mese Chi ha prime è anche gratuito Quindi ragazzi, tanti tanti vantaggi Spanchi invece, cosa è? Punto esclamativo ospite Importantissimo E usatelo tutti Importantissimo, oggi più che mai rimanda ai social del nostro ospite Quindi di Massimo Ed oggi anche alla sua associazione fantastica La Max Art & Company Ragazzi, se volete unirvi a una nuova famiglia Venite lì, Max Art & Company Non vedo l'ora di farmi due risate Perché ovviamente avendo Massimo chiederò un giudizio su di te Che, insomma, non vedo l'ora Non vedo l'ora ragazzi Non vedo l'ora Era uno dei ringraziamenti iniziali Grazie anche che sopporti Giulia Che sopporti è la parola giusta Che sopporti Punto esclamativo quote È una cosa che abbiamo solo Noi vi pesca una frase storica Un aforismo all'interno di una serie Un calderone di frasi storiche Dette da noi o dai nostri ospiti Siamo arrivati a oltre Quindi attenzione Massimo È che se dici qualcosa di troppo epico Rimane indelebile Esatto Va benissimo Esatto, ad esempio citiamo Quando si arriva a una certa età Si può dire un po' tutto Capito? Vero È vero che io questa regola Non l'ho mai rispettata Perché già A pochi anni di vita Già Dicevo tutto Per cui La mia vita è stata tutta un po' Così Tutta un po' in salita Tutta Perché c'è quello che dice È nato con la camicia Io sono nato con la corazza E con lo scudo E con la lancia in mano Perché È stato tutto un po' così Capito? Per cui Ho sempre preso un po' tutto di petto Per cui figura di Se a quest'età Veneranda Posso starmi a preoccupare No perché quello poi rimane male Ma non dire così Perché non ti chiamano più Ma non lavori più Ma non fai qui Non fai lì Ma Non 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 bisogna avere paura di questo Anche perché Sennò si rimane Proprio fermi In fila Dietro a tutto E invece bisogna sempre Provare a fare qualcosa Per migliorare La propria esistenza E quella degli altri Vabbè Non voglio fare Il retorico Tra l'altro Potresti avere In fronte il record Della frase storica Più veloce Perché Si dice Quello è nato Con la camicia Io sono Cioè Tutta la parte Dove dice appunto De la corazza Spudo e lancia Potrebbe già essere Una frase storica Esatto Quindi ragazzi Scrivetemelo Scrivetemelo su telegram Che la inseriamo Però mi deve arrivare Esattamente come l'ha detta O la clip O il momento Ma no Anche perché è difficile Che mi fanno doppiare Persone Di queste Rassegnate Perdenti Per cui è ormai Anche proprio Un mood Un modo Di vivere Che ormai Va dietro A quello Che ho doppiato Fino a oggi No Per cui Che sei matto Ad arrenderti O a dire Ma beh Ma sta tranquillo Lascia correre Ma non Stai preoccupare Goditi la vita Non posso Non posso Non posso Non è proprio possibile No no Soprattutto In questo periodo Maledetto Davvero E se no È la fine No Per cui bisogna Proprio Reagire a tutto E stare sempre belli Non smettere di correre Poi nei momenti Di privacy Nei momenti Di silenzio Esistono anche I silenzi Esistono anche I momenti di riflessione Però Frega niente a nessuno Capito Tu devi stare sempre bene Anche se stai Stai senza una gamba Come va Tutto benissimo Tutto benissimo Sempre Guai Guai Perché Non si mai Dici guarda Mi fa male un piede Circola subito Che ti hanno staccato Tutta la gamba Fino all'anca Capito Per cui Guai Ma se c'è Un freddore Sai che c'ha La polmonite No 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 Niente Tutto bene Tutto bene Sempre Sani come pesci Sani come pesci Andiamo velocissimi Sugli altri Punto esclamativo Viv Punto esclamativo Partners Per i nostri Fantastici social partner Quindi le voci del doppiaggio Roba da doppiatori Gitaru E Punto esclamativo Merch Per il nostro Fantastico merchandise Abbiamo finito Eccoci Massimo Grazie mille Abbiamo già finito Abbiamo finito Ci vediamo domani Ragazzi Arrivederci Arrivederci Non è vero Non è vero Allora Massimo Noi non Ovviamente Nelle nostre dirette Non si sa mai Dove si va a parare Abbiamo solo due costanti Dirette Abbiamo solo due costanti Che sono la domanda iniziale E quella finale Che ti andrò a porre La domanda iniziale Abbiamo ricevuto Dei feedback Tipo Ok sei il mio psicologo Mi metto sdragliato Però secondo me È molto interessante Invece vedere Come ognuno di voi Si vede Quindi Te la vado a porre La domanda è questa Chi è Massimo? Ma chi è che parla? Sei tu Sono prima persona No pensavo che era qualcuno Che chiedeva No La voce registrata Domani è la mia comunione Mi fai la voce No 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 Di chiedere chi è Massimo Ancora no Ancora non ci siamo arrivati Come dice Emanuele Ruzza Siamo ancora i preliminari Giusto? Però Io ti chiederei Chi è Massimo Non tanto dal punto di vista Professionale Che andremo a parlarne Più in là E poi è sotto gli occhi Di tutti Quanto dal punto di vista Di Massimo stesso Quindi come ti vedi tu A livello di passioni Di hobby E di aspetti caratteriali Allora partiamo subito Dal carattere Perché Nell'ambiente del doppiaggio Si dice sempre Da tanti anni Che c'è un caratteraccio Il caratteraccio Forse deriva anche Dal fatto Che Se devo dire qualcosa Te la dico Senza problemi Magari Devo imparare ancora Questa veneranda età A dirlo Con un po' più di diplomazia Sto lavorando per questo Però È sempre stato Un po' meno Nella mia Sfera privata Sono molto più tollerante Molto più Come si dice Più paziente In tutte le cose E hobby Passioni C'erano tantissime Anche se Purtroppo Quando fai questo lavoro A tempo pieno È difficile Riuscire a farlo E il mio hobby Io l'ho concentrato Un po' tutto Su questa MaxArt Che è questa associazione Dove Tutto Tutto nasceva Per poter fare Una sorta di paese Di balocchi Dove si può cantare Suonare Fare Teatro Musica Eccetera Che sono poi Tutti i miei Le mie passioni E si racchiude Tutto in quello Purtroppo Da due anni A questa parte È difficile Poter mettere in scena Qualcosa O poter fare Un concerto O fare qualcosa Però Sono queste Le mie Le mie Priorità Le mie passioni Amo Amo Il mare Amo Le immersioni Amo Il ruoto Perché l'ho fatto Per tanti anni Anche a livello agonistico L'ho insegnato Per undici anni Quindi È un po' questo Insomma Che ti dico Amo Gli animali Ho avuto sempre I cani Adesso non ce l'ho Però Ecco un po' Insomma Sono una persona Abbastanza Vulcanica Però anche Credo Normale Non è che Ci sono cose Speciali O particolari Ok No È Molto interessante Anche In questa live Rientra la costante Delle immersioni Della subacquea Perché abbiamo notato Che Tra i tuoi colleghi Ci sono due Grandi macro Categorie Ci sono I piloti Quindi Chi adora la moto Le macchie E i subacquei Cioè C'è tutto Uno zoccolo duro Di attori Ti posso dire Luca Ward Le comprende un po' Tutte Queste categorie Perché Sia pilota Che Un po' Tutto Sì Però Insomma Lo dico Perché Anche lui È uno Molto Appassionato Alla vita È Un Caro amico Adesso È un po' Che non Ci frequentiamo Perché Chiaramente Sai Le famiglie Poi Ti prendono Tempo Però Insomma Era È così Tutto qua In più la pandemia La pandemia Purtroppo È anche Quindi Amante degli animali Io Ad esempio Un cane Uno Shiba Inu Che è uno di quei cani Non so se conosci I giapponesi Con un carattere Molto particolare Guarda Io ti dico Dunque L'ultimo cane Che ho avuto Si chiamava Pinita 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 Però è un diminutivo Di San Pinita Perché Ho tutto un linguaggio Particolare Con cani Con gli animali San Pinita Perché Quando mi rivolgo A loro Ripeto Un gergo Un linguaggio Particolare Però San Pinita Era troppo lungo Pinita Perché ti dico questo Perché L'ho trovata Questa cagnola In Sardegna Che aveva un mese e mezzo E Sembrava Come se fosse stata Sbarcata Da un'astronave Perché Non c'erano Altri cani Di quel genere In tutta la zona Era un cane particolare Sembrava Un po' Un incrocio Ti dico Che se una volta Stavo sul traghetto Per Ponza C'era il marinaio Napoletano Che mi ha fermato Mi ha guardato C'era pure lei Mi ha detto Ma chissi È un cane o una iena? Io ho detto No È un cane Però È un incrocio Era un incrocio Purtroppo Perché non c'è più Da due anni Però ha vissuto 16 anni Ha vissuto bene Eccetera Ed era un incrocio Per una serie di cani Una cooperativa Gli genitori Gli genitori Perché c'era Un po' Del licaone Un po' Della iena Un po' Del settero Un po' Un po' Di tutto C'era Capito E io Gli ho voluto Un bene dell'anima Sto cane Perché ti dico questo Perché Quando le persone Mi fermavano La portava a spasso Diceva Ma che razza è? Allora Siccome io sento Migliaia di razze Adesso Di tutti i tipi Il Pinscher Il Kurper Il York De Bistert E quello E quell'altro Io gli dicevo Che era un Sampinito Della Normandia E chiaramente Era un metizio Fino a T'ho detto C'era un po' Di tutto In quel cane Certo Però le persone Dicevano Ah E come se fosse No Ah beh sì Come no Conocevano Quella razza Dico da non confondere Con il Sampinito Della Birmania Perché Ha tutto Un altro tipo Di pezzatura E quindi Se ne andavano Soddisfatti Bellissimo Sì che poi Insomma Quando dicono Ah sì Come no Ti fa anche Molto sorridere Perché Me la sono mettata Sul momento Però magari L'altra persona Per non fare La figuraccia E dire magari Giustamente Perché io direi Magari non la conosco Esatto Io direi Non la conosco Invece però Molti Per non dire Io non la conosco E fare magari Per loro bruttature Ah sì Come no E invece in realtà La fai doppia La figura Però non lo sai Tu sei convinto Invece di aver fatto Bella Sì Ti diverte solo Massimo E noi Perché ce lo racconta Invece mi incuriosiva Molto la cosa Che hai detto Del nuoto Io Nel mio Molto piccolo Ho fatto un po' Di nuoto E poi sono passato Alla palla al nuoto E mi interessava Capire insomma Qual era il tuo Stile preferito Insomma Ma guarda Io ero un velocista Perché sulla resistenza Anche quando feci La riabilitazione Era tutte e due le ginocchia Perché mi hanno operato A tutte e due le ginocchia Quindi quando ho fatto La riabilitazione Si capiva Sulle macchine Isocinetiche Che avevano Molta più Esplosività Nello scatto Nel primo impatto E molta poca resistenza Nel tempo E quindi Facevo i 50 I 100 Stile libero Ho provato anche A far delfino Poi sui 200 metri Già stavo in difficoltà Ho fatto nuoto Con la S Roma Chiaramente Non poteva essere Diversamente Grande Grande E quindi Vabbè Insomma Avevo un lungo periodo E poi L'ho ripeto L'ho insegnato Nella piscina comunale Della quarta circoscrizione Che adesso è diventata terza E in una piscina privata Insomma Per tanti anni Per cui Ero fatto Il giro del mondo Tre volte A nuoto Ho provato anche A fare Palla a nuoto Come hai fatto te Come fai te Hai fatto Non lo so Sì vabbè Ma Andrea Era una pippa Vabbè Però Dopo pochi allenamenti Visto che mi addormentavo Sulli autobus E mi risvegliavo Tipo Ai capolinea Perché Molto bene Ma erano devastanti Gli allenamenti Di palla a nuoto Per cui E poi Vabbè Ho smesso Poi ho fatto Ancora prima Tuffi Insomma Questo è Uno degli sport Che ho fatto Poi ho fatto Tanti altri Ho fatto Calentaggio Ho fatto Calcio Purtroppo Calcio Purtroppo Purtroppo Un'altra vita Uno chissà Che infame Sarà stato E deve Per forza Di far Sta squadra Che ti Devasta Il cuore Come se stessi Insieme A Una donnaccia Possiamo dirlo Perché Poche sono Le soddisfazioni E molti dolori Tutto qua Detto questo Possiamo anche Chiudere Se vuole Il capitolo Oppure parliamo Per un'ora Di aroma Però Insomma Purtroppo È un tasto dolente Per tutti Noi Perché Ci dobbiamo Meritare Tutto questo Vabbè Esatto Esatto No Però La passione Per il calcio Penso Cioè La capisco Molto bene Perché Anch'io Fin da piccolo Avevo Mio nonno Che Aveva Ottant'anni Però Mi portava Allo stadio Col motorino Il ciao E quindi Partivamo Per andare Nei distinti sud A guardarci la partita Quindi è una passione Che porto avanti Fin da piccolo E poi ho anche avuto La fortuna Di giocare Non a livelli Professionisti Perché non ci sono mai arrivato Però insomma Nelle Giovanili Della Roma Ho fatto un ritiro Con il Napoli Poi come dici te Il calcio È uno sport infame Che Mentre stai magari Nel tuo Nel tuo Top Di forma Ti rompi il menisco Ti rompi il collaterale Ti rompi il crociato C'hai Ventimila persone Che Non bravano altro Che il tuo posto E quindi poi Ovviamente perdi Tu pensi che Io L'ultima partita Di campionato Avevo Dico Sedici 17 Dovevo andare a fare Il provino Al Torino Che giocavo Alla sinistra Il mio idolo Era Gigi Riva Anche perché Quando facevo Ho fatto tre anni Di coni calcio All'acqua cedosa E venivano le squadre Che dovevano giocare Contro la Lazio A Roma E si allenavano Al campo 9 Noi stavamo Al campo 10 Per cui Venne quell'anno Il Cagliari Che vinse poi Lo scudetto E rimase impressionato A Gigi Riva Anche perché A parte il fenomeno Che era Ma era il mio stesso ruolo Per cui C'ho questo Dedica Autografo Che metterò Fino Che è vivo E Perché dicevo questo? Per il crociato Stavamo parlando Ah sì Dovevo fare Sto provino L'ultima partita Di campionato Mesce il portiere A Balanga Sulle gambe E non si sa Quale delle due ginocchia Mi rompe di più Per cui E all'epoca Purtroppo I crociati Non li ricostruivano Eh sì Per cui Mi ruppi il menisco Il crociato E andai Mi operarono Il menisco Però non mi teneva Il ginocchio Andai a fare Sto provino Mi dissero Guarda Ciao Arrivederci Dice che è successo Che è quella cicatrice Dico no E se è caduto Su una bottiglia Senti Vattene Perché Per cui La mia carriera Di calciatore È finita così Immediatamente Però Probabilmente È un bene Perché se no Non avrei mai fatto Questo mestiere Certo Ma per domandarlo Quindi dobbiamo Comunque qualcosa A quel portiere Maledetto Sto burino De Monte Rotondo No Per carità Scherzo Non mi arrabbiate Monte Rotondo Io C'era anche Un mio Nonno Che veniva da lì Per cui Voglio bene Voglio bene Odio però Monte Rotondo Scalo Per quello che Mi hanno combinato Al ginocchio Cercate di capire Insomma Ma sì 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 Siamo comprensivi Invece tornando Diciamo Alla 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 Tua carriera E Poi anche La tua passione No Principale Io ti chiederei Come è nato Tutto Cioè Quando Hai iniziato Le prime volte Ad affacciarti Ad approcciarti Più che affacciarti Con la recitazione E dopo Col doppiaggio E quando Se c'è stato Un punto specifico Nella tua vita Che tu Associ al cambio Di passo Ossia Quando Quel momento In cui hai pensato Beh Però Di questa passione Posso riuscire A farne un lavoro E poi Ha avuto Quella straordinaria Carriera Che è sotto Gli occhi di tutti Certo Allora Io avevo Mia nonna Che aveva La passione Per Il cinema La televisione Eccetera E faceva Dei piccoli ruoli Delle piccole cose Non era il suo mestiere Lo faceva un po' Per passione Per hobby E a due anni Ho cominciato a fare Già delle piccole cose Delle pubblicità Non mi chiedete Contributi Perché non si trovano E non esistono Io stavo in pensione Da cent'anni A due anni A due anni Sì Ho fatto La prima La prima pubblicità Che era quella Della VIX PAPOLUB Io Una cosa Che ripeto Sempre Perché è una cosa Che è rimasta Nel mio cuore Nella mia mente Facevo Questo bambino Che stava male Che non si direbbe Ma io da piccolo Ero molto Esile Molto gracile Facevo questo bimbo Che Raffreddato C'era questa Signora Bionda Meravigliosa Che mi metteva Il VIX Sul petto E la mattina dopo Ero guarito Che poi Era un po' C'è La pubblicità L'hanno fatta per cent'anni Cambiando I protagonisti No? Ma un po' era quello Che tu la sera Stavi male Non respiravi Ti mettevano sta cosa La mattina Era in grillo E io mi ricordo Che Corsi All'epoca In braccio A questa mamma Che doveva fare Mia madre E l'abbracciai Tutto guarito Mi ricordo io Ancora A distanza Di Tanti anni Il profumo Di questa signora Per cui Probabilmente Forse è merito Di questo profumo Che io Ho poi Avuto Questa Questa passione Però insomma Altre cose Ho fatto anche Altre cose A quell'età Poi è stata messa Un po' da parte Perché I miei genitori Non erano molto D'accordo Ho studiato Mi sono diplomato Mi sono insegnato Psicologia Poi gli eventi Della vita Hanno fatto sì Che io non ho potuto Finire Questo corso Di laurea Però la passione La passione C'è da sempre Che poi C'è stato Un momento Di pausa Poi a 16 anni Ho frequentato Un corso Di teatro Di teatro Ho iniziato Sono stato In una compagnia A San Lorenzo Dove si faceva Un teatro povero Diciamo Di Grotoschi Ho fatto Avevo sempre Una nota Però Avrò centinaia Di ore Registrate Di musica Tra l'altro Un pezzo È stato scelto Da un mio amico Per accompagnare Le sue riprese In Patagonia Sulle balene Insomma Sì Però ecco Lì c'è un rammarico Perché avrei dovuto Secondo me Studiarlo Molto Perché pure Mio padre Mi diceva Se ami la musica Mio padre Suonava la fisarmonica Se ami la musica Devi studiarlo Devi studiare Vuoi andare al conservatorio E io non avevo Le idee molto chiare All'epoca Per cui Poi ripeto Non è se mi ho fatto tutto Nella vita Certo Per cui Ho scelto Ho scelto Questa carriera qua Che è venuta Un po' Così Insomma Anche per una sorta Mia di tigna Però poi Dal teatro Dalla scuola Che ho frequentato Come uditore A Firenze Di Vittorio Garza Sì Andando avanti nel tempo Poi è venuto fuori Questo corso Di doppiaggio Organizzato Dal gruppo 30 E dalla regione Esclusivissimo Ce ne hanno parlato Anche altri ospiti Beh sì Avevano preso Avevano preso Un'ottima sovvenzione Ed era Secondo me La scuola L'unica Vera Scuola seria Che c'è stata Per Sette Otto mesi Tutti i giorni Stavamo lì Tutto il giorno C'erano Dei grandissimi Maestri Quindi questa è stata Un po' la mia fortuna C'è una fortuna Che ho cercato Perché hanno fatto Dei provini Su 3000 persone Che hanno visionato Ne hanno scelte 30 E alla fine del corso Quattro voci maschili E due femminini Sono state Assunte Per un contratto In esclusiva Per un anno E io Sono rientrato In queste quattro voci Per cui Da lì poi Non sono più Uscito dal doppiaggio Dico uscito Perché Ho messo da parte Un po' tutto Per dedicarmi Totalmente A questo mestiere Non c'è stato Quel delirio Di onnipotenza Di dire Ma io posso fare tutto Posso fare questo Questo e quell'altro Mi sono dedicato Veramente tanti anni Ad imparare bene Questa professione E poi ho ripreso Col teatro Con altre cose Il cinema Il televisione Tutto qua Che dire Che dire Ragazzi Allora Io farei Lasciare lo spazio Per una domanda A vostra testa E poi andrei Già a vedere Un po' la chat Perché Ho visto Un po' di Un bel po' di domande Però vi Vi ricordo Che noi Per le domande Pescheremo A caso Tra tutte Quelle evidenziate Cioè Io scorrerò Come vedo La domanda evidenziata Qualcuna la prendo Quindi se volete Che la vostra domanda Venga letta Non venga persa Poi nei meandri Della chat Evidenziatemela Piccola parentesi Spanchi Aspetta 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 Prima sono curioso Massimo Massimo Puoi dire liberamente Che sono la testa Di quiz In volontà Sta ragazza Come La ragazza Non so Qual è la sua origine Se è di Roma Se è di Orgosolo Se è di Non so Da dove Di Noto Di dove sei tu Di Roma Sì Ok È molto È stata molto diffidente Nell'affidarsi A questa A questo cammino Ci ha faticato molto A scoprirsi Ed è difficile Cioè Il lavoro Non è soltanto Andare a leggio E fare questa scuola Di doppiaggio Tanto per levare soldi Questa è una cosa Che io ci tengo A specificarla Anche se Parlo di lei Però La nostra scuola Dalla MaxArt Non lo so Se è diversa O se ne esistono altre Quello che facciamo noi È quello di cercare Di tirare fuori I talenti E Far sì che Non è obbligatorio Non è necessario Farlo per mestiere Perché Non siamo tutti Grandi talenti O chissà O geni O campioni Però si può sicuramente Migliorare In tante cose Migliorare Nella dizione Come lei ha fatto Migliorare Proprio Nell'applicazione E cominciare A tirare fuori La voce Insomma Sono tanti Gli aspetti Che vanno anche Di pari passo In maniera parallela Ai blocchi psicologici Che ognuno di noi ha Per esempio A me è un blocco psicologico Ma bloccato Per tanti anni Proprio nel doppiaggio Perché Andavo a leggio Con un'ansia Devastante Ci ho messo Un bel po' Prima di Riuscire A uscire Da questo Da questa ansia E vedo che La riscontro Anche in molti Di loro Però diciamo Adesso Quanti mesi Stiamo lavorando Sempre troppo pochi Insomma Però Non è che In pochi mesi Si possono fare Dei miracoli Però c'è anche Da dire Che Molti di loro Non ha il suo corso Perché il suo corso Diciamo che All'inizio È il corso base Però molti di loro Che funzionano Considerando Che io faccio Spesso Molte direzioni Direzioni di doppiaggio Gli do la possibilità Di lavorare Non è una promessa Che io faccio Perché Non è automatico Che se tu vieni a scuola Poi lavorerai Però già Alcuni Già Anche da qualche anno Stanno lavorando Confermo Perché non siamo Negli stessi corsi Ma li conosco Quindi Confermo Che Quindi Hai visto Come sta più attenta A parlare stasera Che è molto Molto pulita Molto attenta Nel parlare correttamente Perché Se no Se no c'è una certa Laura Che ringraziamo Laura Baldassare Che è L'insegnante Di dizione Di impostazione Della voce Della aspirazione Eccetera Eccetera Che se no Gli è mena Esatto Che tu la vedi Che sembra Maga Maghella Però poi Dopo Prima o poi Se 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 Sgarri Te 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 becca Sì sì Sono attentissima Sì sì Di solito Di solito Io direi Scacciata E qua Corso Romana Accenna Perché Cioè Tipo L'agerini In Viaggio De Nozze Non è vero Tipo L'agerini In Viaggio De Nozze Partivano Non vedete Non vedete Il nuovo La nuova Giulia E quindi Sono contento Che tu l'hai vista Perché noi Ad ora Ancora Non l'abbiamo vista Ma guarda Quanto sei veramente Giulia Allora Tu anche Tutte le prossime dirette Le fai così Tutta bella Carina Che parla bene Capite In italiano Stai attenta A come parli All'interazione Delle cose Che dici Cioè Vederemo Un sacco Di specchio A farsi Un'edichetta Quella Ti rimane Per sempre Ormai Ormai È condannata È come il caratteraccio Mio Nel mio mestiere Molta gente Ma Quando li chiamo Magari Come direttore Dico Ma Avevano detto Che c'era Un caratteraccio Vero che Molti sono ruffiani Però A me non mi risulta Io come lavoro bene Con te Non lavoro con nessuno Che poi Magari escono Dalla porta Dicono Non c'è Stronzo Però No Ci stanno pure quelli Però Insomma Se Leggono Una parte di te È difficile Proprio togliersela Però Bisogna sempre Invece Capito ragazzi Non leggete Solo una piccola parte Di me Ma Ma noi leggiamo Quello che tu ci mostri Quindi Mostraci altro Esatto E noi leggeremo Qualcos'altro Alla prossima Mandacene altra Capito Certo Mandacene altra persona Così Noi vediamo Qualcos'altro E faremo Un effetto Pure su quella persona Cioè Non è che Molto simpatici Grazie Come sempre Il protocollo è chiaro Il protocollo è chiaro Alla lontana Se è meglio Dirigere O doppiare E Alla vicina Un pregio Di uno E Un difetto Un pregio Un difetto Di uno E dell'altro Allora E Da dove Comincio Cominciamo Dal fatto Che sicuramente Stare a leggio A doppiare È sicuramente Meglio Meglio Per l'aspetto Tuo Personale Artistico E Il difetto È che Adesso Purtroppo I ritmi Sono infernali Per cui Bisogna Correre Come pazzi E Quindi Ne va Un po' A discapito La qualità Soprattutto Per chi Comincia Per chi Fa questo lavoro Da poco A poco tempo Proprio Per imparare Non ci sono più Vabbè Ma mi sto Inoltrando troppo Torniamo a me Inoltre Di no Per dire che Insomma È complicato Per chi Comincia Soprattutto Per un'altra serie Di aspetti Che magari Affrontiamo dopo Invece Il pregio Della direzione È che È molto Bene Adesso è un po' Che io non faccio Dialoghi O ne ho fatti Tanti Anche perché L'idea Di prendere un film Di dialogarlo Cioè Dialogare Lo sapranno Un po' Tutti quelli Che seguono Questa 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 Cosa Trasmissione Puntata Come la chiamo Con come preferisci Questa chiacchierata Questa chiacchierata E Tu Dalla traduzione Riesci a fare Un dialogo Per mettere Tutto a sync E sai perfettamente Di che parla Questo film Per cui Poi continui La tua opera Portandolo in sala E dirigendo il film Quindi scegliendo Gli attori Trovando le voci giuste Pensando Cosa che Io sono stato Da una parte Fortunato E da un'altra Sfortunato Perché Fortunato perché Perché vengo da una scuola Di giganti Ci sono stati veramente Il top I numeri uno Del doppiaggio E mi hanno insegnato Il mestiere in questo modo Quindi È importante Anche Fare una Una sorta di selezione Tra le voci Non basta Mettere una voce giusta Devi fare Creare Un'orchestra Perché tutto deve suonare Nell'insieme Non puoi Capito Metti una cosa Poi Tralasci l'altra O quello Sì vabbè Ma chi se ne frega Deve essere tutto fondamentale Anche il brusio Anche una battuta Quindi È proprio quello Lo studio La ricerca Che si fa Quando si va poi A fare Una distribuzione Cioè Quando si crea Un cast Di doppiaggio E questo è il lato positivo Il lato negativo Torniamo sempre lì È il poco tempo È la corsa È Soprattutto Soprattutto I Quelli che mettono bocca Sulla parte artistica Che sarebbero I Capo edizione Il Responsabile Della determinata società Il responsabile Della determinata casa Che può essere Netflix Disney Quello che sia Dove Giustamente O Diciamo Giustamente Diciamo Dai Hanno Hanno il diritto E il dovere Di discutere La tua Le tue scelte Quindi È difficile Da far comprendere Da far Da spiegare Che Spesso Più di una volta Capita Che ci sono Delle persone Che magari Non sanno neanche Moltissimo Del doppiaggio Ormai Ci si regola Quello è un altro discorso Ancora peggiore Ci si regola Sui grafici Su Sì la voce Guarda il grafico Dell'originale È uguale a quello Allora scegliamo lui O lei Non è questo Non è questo Non è questo Ci sono tanti altri aspetti Che si stanno Completamente Tralasciando Ma Fa parte proprio Dell'andamento Di questo mondo Un po' In tutte le cose E come Io faccio sempre un esempio Che è molto Misero Però è come se io decido Allora Mi voglio fare un divano Io vado alla fabbrica Del divano E entro Nella fabbrica E comincio a dire Sì vabbè ma scusa Ma lei chi è? Sono padrone del divano Che me lo comprerò Lì Queste zampe Come le state montando? No Ma mi posso io permettere Di andare Non sapendo niente Di divani Andare a rompere I coglioni A chi sta costruendo Un divano Magari da 40 anni Questo è il problema Capito? E Spesso La parte negativa Di questo mestiere È Questa Abbinata Al poco tempo Che ci abbiamo E hai sempre meno soldi Che ci sono Per cui Io Fatica Cerco di difendere Un pochino La tradizione Di questo Di questo mestiere Ma ripeto È molto Faticoso Tutto qua Ok Ok Chiaro Grazie Grazie Andrea Prego Allora Io volevo farti Una domanda Ben precisa Che era su Un'eredità Pesante Come Diciamo Avessi affrontato Quest'eredità Ma ho visto Che è già arrivata In chat Quindi Te la faremo Poi dopo Non voglio rubare Domande La chat Non voglio essere In chat Per questa cosa Quindi ti farò Un'altra domanda Su un prodotto Che io personalmente Ho amato E apprezzato E di cui Secondo me Esiste una sola Versione Cioè Non è mai uscito Il sequel Che è Space Jam Non esiste Un Space Jam 2 Perché Non esiste Esiste solo L'originale E Fortunatamente Tu hai dato la voce A Michael Jordan Che tra l'altro È Penso Uno degli atleti Più amati Soprattutto del tempo Come l'hai vissuta Perché spesso Quando si doppiano Appunto Che ne so Atleti Che si prestano Al mondo del cinema Tutto C'è un po' di Non lo so Si entra sempre In punta di piedi Di preoccupazione Tu come l'hai vissuta Quell'esperienza Beh La premessa Che ero molto giovane Perché insomma Parliamo di Non so quanti anni fa Trenta Credo Almeno Io Non mi sono creato Grossi problemi A farlo Perché Non è che lui C'ha avuto Sto grande Espluato Di recitazione Insomma Stava lì Giocava Diceva qualche cosa Però insomma Lui credo Se la sia Cavata molto bene No Poi ripeto Quando sei Una divinità A quei livelli Non ti crei Troppi problemi Insomma E quindi È stata una cosa Mi ricordo È stata una cosa Molto piacevole Una cosa Un po' meno piacevole Dove Se sapete Di che anno è Adesso Space Jam Non mi ricordo Un talent Me lo ricordo Su tutti Ce n'era più Me lo ricordo Su tutti La Lola Banni del tempo Me la ricordo No no 97 97 Ah vabbè Peggio Comunque 2007 Sono 25 anni Che ci sono Questi talent Che incombono Sulle nostre teste C'era anche Sandro Ciotti Però sai Quelli Allora Sono trovate Anche abbastanza Geniali Perché Sandro Ciotti Voi siete Bambini Ma era Una voce Straordinaria Della radio Del novantesimo Minuto Una voce Talmente Particolare Ed era straordinario Anche sentirlo Così come c'era Galeazzi Come talent Insomma C'erano questi personaggi Qui Ha un senso Ha un senso Tutto ciò Diciamo In qualche modo Non ha un senso Che la sera Che abbiamo fatto Quest'anteprima Al teatro Al cinema Di Via del Corso Non mi ricordo Come si chiama Adesso mi sa che è chiuso Quello vicino A Piazza del Popolo Ci furono Tutti questi VIP Simona Ventura C'era Galeazzi C'era Galeazzi C'era Ciotti C'era quello C'era quell'altro Dove Dicenze Simona Ventura Fa la voce Della Topetta Quello fa Quello Nessuno Nessuno Si è degnato Di dire Di chi era La voce Del protagonista Dell'unico Personale No L'unico No Perché c'erano Più di uno Del protagonista Ma chi lo tocca A sto protagonista Io non ero Un talent Quindi non ero Nessuno Tutto qua Per cui non era importante Neanche dire Una vergogna Ah beh Questo è Questo è un po' È un po' Il nostro Destino Insomma Perché Se tu speri Di avere Delle gratificazioni Perché Quando fai teatro Quando hai fatto Se hai fatto Uno spettacolo Fatto bene C'è un applauso No C'è un riscontro C'hai delle risate Se è uno spettacolo Brillante Comico C'hai Le lacrime Se è uno spettacolo Drammatico Nel doppiaggio Diciamo che Uno dei pochi Di scontri È proprio Quello Di Almeno Di comunicare Di chi è Questa voce Pensate che Noi abbiamo Un contratto Che Dice Che alla fine Del film Sul primo nero Appena finisce Il film E parte Il primo nero Ci dovrebbero Stare le voci Di doppiatori Ditemi quante sono Le società No le società Le case Che rispettano Questa regola Contrattuale Forse una Io li ho visti Veramente pochi Sul primo nero A meno che Non c'è La voce Del talent Dove Siccome Per il marketing Devi avere Questo riscontro E ancora Non hanno capito Che non porta A niente Anche perché In America Se chiamano Un talent Chiamano WP Goldberg In Italia Chiamano La giornalista Di Sky Quella del calcio Adesso non mi ricordo Come si chiama Ilaria D'Amico Sì 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 Bellissima donna Grandissima giornalista Ma Non gli fate fare La voce del drago In Arago Adesso non mi ricordo Come era il film Purtroppo Mi dispiace Non mi ricordo Anche perché Non porta a nulla A meno che Sì Magari vai a Domenica Inn E dici che hai fatto La voce Di quello Ma hanno capito Anche che Tutto questo Non porta Denaro Quindi perché Poi tra l'altro Tirare fuori Migliaia e migliaia Di euro Per un talent Che magari fa Questa cosa Non so In maniera Ha un senso Se chiami un talent Se chiami veramente Un grande attore Una grande attrice O comunque Un personaggio Importante Fecero Fecero un film Slaulin Soccer Mi pare che si chiamasse Slaulin Dove chiamarono I calciatori Che erano stonati Come campane Però almeno Stai parlando Di calcio Sai che quello Lo fa Totti Quello lo fa Perrotta Tommasi Eccetera E allora Lì c'è un senso Ma tutto questo Non lo so Forse in Italia Sono molto pochi I veri talent Secondo me Sì Perché in realtà C'è un concetto Diverso di talent Probabilmente Perché come dicevi In America Se tu chiami Un talent A prestare una voce A un personaggio In un film d'animazione Chiami Eddie Murphy Ok In Italia Magari Chiami Il cantante De turno Ma Il cantante Solamente perché Sa usare la sua voce Nel canto Non è detto Non è detto Che sappia farlo Nel doppiaggio Quindi è un ragionamento Un po' Probabilmente legato Più ai numeri Ma adesso Chiamano Di social Quindi Adesso Chiamano Che poi non arrivano Però questi Gli influencer Chiamano Eh sì Sì Purtroppo Io per questo Dico che esiste Solamente uno Space Jam Perché nonostante Ci fossero i talent Anche in quello Space Jam E nonostante Ci siano Aneddoti Che hanno fatto Storia Nel doppiaggio Dei talent Nel primo Space Jam Il secondo In alcuni pezzi È In alcuni punti È Da fruitore Non da tecnico Semplicemente da fruitore Inascoltabile Si sente Un netto Stacco Fra Chi lo fa E Chi lo fa come hobby Cioè Chi si è trovato Alleggio E purtroppo Non è bello Perché quando Da spettatore Ti rendi conto Di questa cosa Di questo scollamento La magia finisce Il secondo film E non l'ho proprio seguito Non so Che talent ci sono Beh È stato chiamato Non so Fedez Al doppiaggio Sono stati chiamati È stato chiamato Uno speaker Di radio 125 Se non sbaglio Insomma Non mi ricordo Però uno speaker radiofonico Poi è stato chiamato Un commentatore Sportivo Sono stati chiamati Due giocatori Di basket Insomma Io sarei curioso Di Sarei curioso Di sapere Quanto hanno preso Non Non per comunicarlo Alla tributaria Soltanto per sapere Come mai Questi soldi Ripeto Anche se Perché non porta A nulla Se non A una devastazione Artistica E di qualità Non capisco Perché Per queste persone Ci sono i soldi E non ci sono Per persone Che magari Doppiatori Che fanno questo lavoro Da 40 anni E lo fanno Diciamo Abbastanza bene Soprattutto per i riscontri Che uno ha avuto Per i premi Per Anche a volte Anche delle critiche Anche se se ne parla poco Perché ripeto Proprio Quando si arriva a fare Il doppiaggio I soldi I soldi Ci stanno Sono finiti Capito Poi magari Cioè Tu chiedi Io una volta Facevo pure I trailer Cinematografici Facevo tanti Adesso Purtroppo Il problema È che ti danno Veramente una miseria Questo lo dico Proprio apertamente Una miseria Una miseria E E io rifiuto Cioè La rifiuto Farebbe comodo No? Fare Tanti Tanti Metti Lì Poi alla fine No Perché Stanno devastando Questo mestiere Questo mestiere È devastato Per questi motivi qua E quindi La qualità È quella che è È un peccato Però È un peccato Appunto Come dicevi Tu magari Mi rifiuti 300 euro Adesso faccio cifre assurde Sì E poi magari Adesso poi Un trailer Tu lo trovi All'interno delle pubblicità Un trailer Non è più quello Che passa al cinema Punto Sì Passa Passa in mezzo A Barilla Mulino Bianco A quella A quell'altro Ed è pubblicità Per pagare Questo passaggio televisivo Magari spendi 160.000 euro Però non c'hai 300 euro Da da A questo disgraziato Che ti fa la voce No? Quindi è Veramente Inconcepibile E incomprensibile Anche perché Se servisse Se poi servisse In un certo senso Anche L'inserimento Di persone Che non fanno Il vostro lavoro Ma che sono Molto seguite Perché poi Penso che attualmente Sia più un ragionamento Numerico Del potenziale Delle persone A cui puoi arrivare Più che Merito gratico Per quanto riguarda Se servisse Effettivamente Al prodotto E fosse un ingresso In dolore Cioè dove Tu che lo ascolti Non senti Che quella persona È palesemente Una persona Nella vita Fa altro Allora Io da fruitore Direi pure Ok ci sto Perché magari Vuoi arrivare A un pubblico Più ampio Rispetto a quello Normale Perché magari Puoi essere pubblicizzato Anche sui social A costi inferiori Magari dei ragionamenti Col talent Che fai entrare Dove lui ti farà Una serie di stories O dei post Io adesso Non lo so Qual è l'accordo Però ipotizio Sicuro Ma quando invece L'accordo che tu fai È a discapito Della qualità Di quello che io percepisco Onestamente Non mi piace Perché trovo Che il doppiaggio Sia Veramente un fiore all'occhiello Sì Ma io credo Credo che ci sono Anche altri aspetti Da valutare Ad esempio Quasi dispiace Alle case Che curano L'edizione Che tu hai già fatto Quest'attore Tante volte Per cui le persone Sono abituate A quella voce È come se io Adesso mi alzo Poi ritorno E ho la voce Di Pedicini Ma che è successo? No? Certo O di Alessandro Rossi Che ne so Dico Che cosa è successo? Però invece Questa cosa Che è successo Adesso Nessuno Se la prenda Però la Warner Preferisce Me Su Samuel Jackson La Disney Preferisce Luca Ward La Eagle Preferisce Alessandro Rossi È anche un modo Per controllare Il budget È anche un modo Per dire Ah va bene Chi ha di questo Allora Faccio fare quell'altro Perché così Tu non hai Nessun potere Contrattuale Sei controllato Tranquillamente E non Non decolli mai Non decolli mai I miei predecessori Soprattutto Negli anni 50 E 60 Sono diventati Veramente ricchi Con il doppiaggio Perché erano Erano quelli Erano pochi O quello O niente Per cui c'era Un potere Contrattuale Ben diverso E c'erano Altre 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 Lavorazioni Altro modo Di fare Adesso Invece Purtroppo Devi Sottostare A questo Insomma Devi ringraziare Che sei stato Scelto Chiamato A volte Tu hai doppiato Un attore Per 40 film Però Dall'America Vogliono Il provino Cioè Io che cosa Devo ancora provare Su Lawrence Fishburne O su Vin Diesel Lo sai perfettamente Come lo faccio Io Ma perché Mi devi mortificare A fare Questo Ancora Questo provino Come se Vengo col canestrello Col grembiole Ancora A fare il provino Perché il cliente Deve sentire Ma che cosa Deve sentire Cosa deve sentire E' come se tu chiedi A Alla Ferrari Devi andare A fare una prova Perché vogliono Vedere come costruite La macchina Perché non si fidano Non capiscono Se tu devi comprare La Citroen Compri la Citroen Sai che è quella Cosa ancora chiedi Provini Cosa Non lo so Non ha senso Sicuramente Un collega Mio Più tecnico Di me E più addentro A tutti questi Meccanismi Politici Eccetera Mi saprebbe rispondere Io sto parlando Magari proprio come Un povero Uomo del popolo Ignorante Capito Però A molte cose Sono inspiegabili E mortificanti Però Cioè Considera che anche Per chi poi dopo Ascolta Effettivamente Il cambio voce E' destabilizzante Tanto per citare Ti ripeto Non vado alla domanda Perché l'ho già letta Ho già capito Tanto per citare Cioè E' normale Che nel caso De Stallone Si parla di una situazione Diverse Perché Stallone Purtroppo Ferruccio Amendola È scomparso Io lo dico Lo dico spesso Purtroppo Io non lo posso Resuscitare Ferruccio Può darsi pure Che adesso Con questi nuovi sistemi Riusciranno A tirare fuori La voce A campionarla A digitarla A metterla A farla Può darsi che Da I prossimi film Di Stallone Tornerà la voce Di Ferruccio Fatta con i campionamenti Con questo nuovo programma Perché molta gente Ancora Dopo vent'anni Dice certo Ferruccio Amendola E' un'altra cosa Ma io lo so Lo so Che è un'eredità Immobile Però Lì diciamo E' forzata la cosa Perché non è possibile Volevo fare nient'altro Ma quando non c'è La necessità Di farlo Ti ripeto E' come se Dovessi vedere un film Con Jean Reno E non sentire La tua voce sopra Cioè Mi sonerebbe strano Ci sono degli attori Degli attori Che sono sfigati Però Perché per esempio Bruce Willis L'abbiamo doppiato In 20 Insomma Stiamo a parlare Bruce Willis Non è che stiamo a parlare Dello Scalza Cani Però L'ho doppiato io L'ha doppiato Marco Meta L'ha doppiato Cordoba L'ha doppiato Sorrentino L'ha doppiato Pedicini L'ha doppiato Massimo Rossi L'ha doppiato L'ha doppiato Adesso Angelo Maggi Sop Sop Purtroppo è così Capito Per cui Non gli puoi fare niente Che gli fai No però Da ascoltatore Poi fa strano Quando tu sei abituato Magari per 20 film 30 film 40 film A aver sentito sempre La stessa voce E poi a un certo punto Così Un fulmine A ciel sereno Senti un'altra voce È vero No ma io sono d'accordo Ne abbiamo parlato Tante volte poi Di questa cosa Cioè È veramente molto Destabilizzante Cambiare Soprattutto quando un attore È stato doppiato Tante volte Ma tante volte Quasi tutte Dallo stesso È anche vero Che ci sono Dei doppiatori Irraggiungibili Nel senso Tonino Alcolla Che faceva Eddie Murphy Come fai? Cioè Sì Credo Chi è Sandro Acerbo Che lo fa Sandro Acerbo Stiamo parlando Di uno che doppia Brad Pitt E doppia Will Smith Insomma Stiamo parlando Di un signor doppiatore Un grande attore Però è faticoso È faticoso Proprio Sentirlo Sentire questa voce Diversa Tipo che ne so Il dottor Nosaradan Che divide al limite Che doppiato Sempre doppiato In maniera Ironica Carina Anche A volte Comica Brillante Fatto da Giorgio Lopez Che era Il caratterista Per eccellenza Di questa generazione E come fai? Cioè Arrivano Nosaradan Con un'altra voce Con la voce Di Gianni Giuliano Poi stiamo parlando Di un grandissimo attore Ma non è colpa Di Gianni Giuliano È colpa che purtroppo Non si può fermare Il tempo Non si può fare Però io credo Che arriveremo A questo Con le nuove Tecnologie Arriveremo A ricreare Questa voce Magari ho dato anche Un'idea A qualcuno Dice ma sì Ma chi se ne frega Ma campioniamo Ste voci E facciamolo fare Ben venga Io se potessi Guarda Lo scederei Volentieri Stallone Per esempio Perché è stata Una sofferenza Adesso sono 22 anni Che io lo doppio Non è un anno Però ancora Sento questa cosa Ma lo capisco Lo capisco Perché io ero Un appassionato Innamorato Di Sean Connery E per me Sean Connery Era soltanto Pino Locchi Non c'era nessun altro Sono cresciuto Con quella voce lì E l'idea Di sentirlo Con un'altra voce Adesso purtroppo Non c'è più Nemmeno lui Però Ultimi 20 anni Dove non c'era più Pino Locchi Io facevo fatica A sentire Sean Connery Quindi lo capisco Non è che dico Ah no no Lo so E quindi so Che era Un'eredità difficile Che mi chiese Lo stesso Ferruccio Di farlo Dice no Lo puoi fare Solo te Lo devi fare te Vabbè Poi hanno fatti i provini Questa è una cosa Che ho detto mille volte E poi c'è stata Questa fatalità Che Questo suo Ultimo desiderio Professionale È stato Esaudito In qualche modo Però è faticoso Ma è sicuro Ancora c'è gente Che scrive Che dice Ma io che vi posso parlare Dopo 22 anni Dopo 22 anni No immagino Immagino Viene voglia Viene voglia Viene voglia De lasciarlo così Lasciarlo No 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 Non fa Per favore Per favore Ragazzi Io volevo Un attimo dire La mia Perché vedo in chat Qualcuno ha detto Che succede No 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 Qualcuno ha detto Ad esempio Sì però Non fare un discorso Generalizzato A tutti i talent Perché ad esempio C'è stato Frizzi Su Woody Che a me è piaciuto molto Io sono Io sono d'accordo Nel senso Ci sono state Delle piccole eccezioni Mi viene in mente Anche Renato Zero Su Nightmare Before Christmas Ragazzi Ma Fabio Frizzi Pace all'anima sua È una mancanza grande Era uno Che con grande umiltà Con la sua valigetta La 24 ore La mia borsetta Busciava per fare Dei provini Di doppiaggio Quindi è uno Che sapeva di doppiaggio E poi io sono stato Abbastanza chiaro Forse hanno ascoltato Solo una parte Del discorso Ho detto che Quando vale la pena Se ci sono attori Bravi Persone preparate Che conoscono Questo mestiere Benvengano Non è che Che sia Esclosiva Infatti Infatti sono d'accordo Però il discorso Di talent Non fa una piega Perché a me Non puoi improvvisarti Attore Doppiatore Cioè È come se tu prendessi Adesso dico Bolt Ecco Bolt è famosissimo Nell'atletica Magari super famoso C'ha il desiderio Gioca a pallone O metti a giocare A un campionato Professionistico Con una partita Di Serie A Dentro alla Roma Solo per fare La trovata pubblicitaria È un suicidio È un suicidio Perché quello È una persona Che è allenata In un altro sport Che non si intende Di calcio E quindi La squadra Va a giocare in dieci E quindi Chi guarda la partita Si arrabbia Perché chi guarda la partita È un intenditore Quindi se noi stiamo Guardando un film E dobbiamo mettere Dei talent Solamente perché Hanno seguito E magari spingono il film No Perché poi Noi che guardiamo il film E siamo i fruitori A parte che secondo me È una mancanza di rispetto Per chi questo lavoro Lo fa Seriamente Ed abbiamo delle Cioè siamo l'eccellenza Nel mondo In questo lavoro Dopodiché È anche un'offesa Per chi lo guarda Perché insomma Io me devo sentire Una persona che Non è Un professionista È come se io Nessuno Mi mettessi al microfono A doppia un film Cioè è una cosa Inaudita Perché è difficile Veramente tanto difficile Ci vogliono anni e anni Di studio Di predisposizione Di preparazione Quindi Se proprio vogliono Fare qualcosa Adessero Il lavoro A chi lo sa fare E pagassero E pagassero i talent A parte Per fare la promozione Sul film Che è una cosa Che già fanno Però perché devi andare A rovinare un prodotto Per esigenze di marketing E commercializzazione Lo fai lo stesso Paghi l'influencer Che te lo promuove Invece di metterlo Dentro a un film Come un pesce fuor d'acqua Che ti va anche a rovinare Un prodotto artistico Lo metti a fare Quello che sa fare L'influencer Lo paghi Lui ti promuove il film E paghi soprattutto Come devi pagare Anche i professionisti Che ci lavorano E che ti rendono Poi questo prodotto Cioè questa è la mia idea Allora Come diceva giustamente Prima Massimo Adesso fai conto Fai conto che A un doppiatore normale Paghi 5 All'influencer di turno Perché Con il discorso promozionale Blah 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 Magari paghi 8 30 Ma sì Va bene Era per non fare Una spiegazione Ma è così La proporzione È così Ma perché Ma perché devi strapagare Una persona Che tra l'altro Non lo fa quel mestiere Insultando poi Chi ascolta Chi lo ascolterà Perché poi è così E chi ci lavora Perché se tu dici Ah per me Fedez Vale 30 volte Massimo Corvo Cioè stai a di Fondamentalmente Che il valore professionale Di Fedez Per te è maggiore 30 volte maggiore Quello di Massimo Corvo Sei un Disadattato Cioè nel senso Sei una persona Che non capisce Eh poi adesso Faccio una piccola Aggiunta A tutto questo Perché Fedez Può valere 30 volte Massimo Corvo Perché Massimo Corvo Purtroppo Non è stato molto bravo Nel curare La sua immagine Non è stato molto bravo A entrare In nessun tipo di lobby Non è stato molto bravo A vendersi Bene Cioè io in questo Sono veramente una pippa Lo riconosco Lo dirò sempre E non potrò impararlo Neanche a quest'età Nonostante abbia ricevuto Molte proposte Per fare questo salto Di immagine E di qualità Purtroppo Io In questo Sono veramente Un disastro Per cui magari A volte Quando vedi anche Delle preferenze Delle simpatie Delle cose Io leggo Leggo Dei nomi Dei doppiatori Che però Sono stati Sono stati anche Sono stati bravi A A vendersi meglio Vendersi non vuol dire Solo Pubblicamente Vuol dire Vendersi meglio Anche con Con chi Assegna Questo lavoro Con chi fa Delle Chi fa Delle critiche Chi ha Dei contatti E delle conoscenze Per cui Sì È bravo Però sai Vuoi mettere Questo nome Vuoi mettere Quest'altro nome Perché Io infatti Ho sempre detto Basterebbe Che io facessi Le previsioni Del tempo Divento Subito Un talent Capito Certo Oppure Vado Vado Alla trasmissione De Filippi O vado Da Carlo Conti O vado Da questo O vado Da quell'altro Divento Immediatamente Popolare Divento Immediatamente Lasciamo Stato Poi Dico Anche Un'altra Cosa Ho fatto Perché ho avuto Anche delle esperienze Come attore Di fiction Eccetera E lì poi Una cosa che fa Anche un po' Ridere Anche se è devastante Dal punto di vista Proprio dell'andamento Dell'essere umano Che sta andando Proprio a confondersi Tra la realtà E la finzione Per cui Lì E' un altro capitolo A parte Però ecco In questo Io non sono stato bravo Per cui Sì sì Vai a vedere Il curriculum 2000 attori Sì sì Nastro d'argento Leggio d'oro Voci nell'ombra Quell'altro Però Capito Non sconfinfero Io Fino in fondo C'è sempre questa cosa Che sto sempre A metà classifica E quindi Ormai sarà così Insomma Ripeto A meno che Sappi che per noi Sei al top Della classifica Da domani Non mi chiama Carlo Conti E vado a fare tale e quale Tra l'altro Mi piacerebbe Perché Canticchio pure Tutte le Le parti cantate Di tutti i film Che ho doppiato L'ho fatta io Quindi A parte Una cosa Che mi diceva Pierpaolo Che è un mio Allievo Ex allievo Ciao Pierpa Io ti voglio sentire Che mi canti La canzone Del Principe Cerca moglie Perché io Doppiavo Questo ciambellano Ciccionissimo Io Ho scoperto Oggi Dopo tanti anni Che lui Che il ciambellano A un certo momento Canta in italiano Con la voce Da castrato A me Mi poi chiede tutto Però io Il falsetto Posso arrivare A fare questo Ma insomma Il falsetto Proprio ancora A meno che Non barro Al contrario Però Quindi Però tutte le altre Io le ho sempre Cantate tutte E Se mi chiamano Tale e quale Ci vado volentieri Anche perché Ci è andato Luca Wordo Ci è andato Pannofino Ci sono andati Questi pezzi Da 90 No? Io sto sempre Qualche passetto Indietro State tranquilli Ma nell'olimpo Personale Insomma Degli artisti C'è un grosso Parimerito Generale Di almeno Una decina Di persone Che Raggiungono Il senso Dell'eccellenza Ognuno C'ha il suo Il suo percorso La sua bravura Su determinate cose Che non può nemmeno Fare una classifica Probabilmente La classifica La stili Non con i premi O quello che hai doppiato Ma proprio con le preferenze Per quello ora vince L'influencer Chiaro Tutto qua Però Sì Allora Ragazzi Andiamo Con le domande Andrea Fai la domanda Dei social partner E poi iniziamo Ragazzi Tutto il tempo rimanente Lo dedicheremo A pescare a caso Vostre domande Quindi adesso Faremo la domanda Dei social partner E dopodiché Andiamo a voi Andiamo a voi Twitch ovviamente Mi cancellerà un sacco Di domande Quindi voi Se avete una domanda Che volete Venga letta Continuate a farla Una cosa Volevo dire Scrivete tanto E vanno su Ovviamente Non sequestriamo Il nostro ospite Quindi ovviamente Quando sarà Una cosa però Mi preme dire Ragazzi Noi quando siamo in diretta Non leggiamo Le vostre domande O raramente I vostri commenti Fin quando poi Non arriviamo A le domande Quindi Non mi fate leggere Cose del tipo Ecco lo streamer Mi ha rubato la domanda Perché noi non abbiamo Rubato la domanda A nessuno Cioè noi non le leggiamo Andrea sei sempre il solito Andrea Devo sempre intervenire A difenderti Però Insomma È successo questo È successo che Stavo facendo la domanda Su Silvestre Stallone E ho letto che era arrivata La domanda su Silvestre Stallone Nella mia testa Ho detto Ok questa non la faccio Faccio una domanda Su un ricordo di infanzia Che è Space Jam Ora Le altre 50 domande prima Io non è che mi ricordo A memoria Quindi non l'ho visto Space Jam Scritto man mano Che leggevo la chat Ho fatto la domanda Su Space Jam Poi come Come solito La mia fortuna Mi ha portato A aver fatto una domanda Su Space Jam Quando già avevano parlato Non è comunque Una giustificazione Per la chat Ragazzi Noi dobbiamo essere Bravi Allora Il fatto che una domanda Che voi ponete Venga fatta da Andrea O da me O da qualcun altro Anche se noi Inconsapevoli Che voi l'abbiate fatta Dovreste essere felici Perché noi non leggiamo Tutte le domande Sono tantissime le domande Ne peschiamo qualcuna a caso Quindi avete avuto Anche la fortuna Di vedere posta La vostra domanda Cioè invece di essere contenti C'è la situazione al contrario Ecco Andrea Mi ha rubato la domanda Vedetela come No ma Poi ci stavano Talmente tante cose Da chiedere a Massimo Tra l'altro Prima c'è stata una diretta Su Instagram Con le voci del doppiaggio Da cui sono uscite Poi tante altre domande Quindi c'avevo veramente Tipo 20 domande Da potreste fare Vabbè insomma E dai Parentesi Parentesi chiusa Andrea sei una brutta persona Però sto scherzando Ovviamente Quello sì Ragazzi Non mi fate più legge cose Del tipo Ecco mi ha rubato la domanda Perché Non esiste Vai Andrea Domande social partners Domande social partners Allora la prima domanda Viene fatta Dalle voci del doppiaggio Per l'appunto E ti chiedono Data la situazione attuale Come dovrebbe approcciarsi Un aspirante doppiatore Ad un direttore di doppiaggio O ad un primo turno Quindi la situazione attuale Della chiusura Delle sale Covid La situazione attuale Del Covid Purtroppo è Ingovernabile E A me capita Di incontrare Quando esco O entro Negli stabilimenti Negli studi Di doppiaggio Ragazzi e ragazze Che chiedono Di essere ascoltati Il problema Purtroppo è che Con il fatto del Covid Non si può fare In altri tempi Si è potuto fare In qualche modo Organizzando magari Una giornata Di provini O Volta per volta Riuscire ad ascoltare Dei ragazzi Però ecco Molti mandano Un audio E Io Spro Un sessantina Di audio Che ho ascoltato E Un po' Faccio fatica Perché siete Veramente Tanti Capisco Che questi Tanti Derivano Anche dalle Molte scuole Che sono state create Attenzione Alle scuole Perché Alcune Sono molto buone E altre Servono solo Per togliervi soldi Quindi Informatevi bene Non vi fermate A un nome O a qualcosa Di Informatevi bene Dove andare A Perfezionarvi O a crescere E a migliorare La vostra tecnica E il vostro E la vostra professione Informatevi bene Punto esclamativo Ospide Esatto Esatto Cioè ragazzi Affidatevi a professionisti No No Ma non è questo Ripeto Ci ne sono Alcune di scuole Infatti Molto Molto Buone Però ecco Il consiglio Che do a questi ragazzi Di Insistere E resistere A questa situazione Che poi spero Finirà Prima o poi No Finiranno Ste varianti Maledette Prima o poi Ovvero Verrà individuato Quello che In laboratorio Tira fuori Ste varianti Nuove E verrà Crocifisso Spero che Succeda presto Magari È il virus Stesso Crocifiggiamo Il virus Però Non mollate Insistete Su questo Insistete Nel prepararvi Nel esercitarvi Più di questo Non posso dirvi Perché io ripeto Io Se potessi Sentirei tutti È complicato Pure sentire Qualcuno Perché Il discorso Che ho fatto prima I tempi Sono Strettissimi Per cui Una volta Magari Se finiva Un turno Mezz'ora Prima Si poteva Ascoltare Qualcuno Adesso Si rischia Anche di Non finire Il programma Per cui È complicato Però Io ripeto Il consiglio Che posso dare A tutti È di Non fermarsi Di non abbattersi E di Perfezionarsi Perché Considerando La quantità Siete Veramente Tanti In qualche Modo Cercate Di emergere E di Non essere Magari Un po' Troppo Scontati E scolastici Ecco Questo Perché spesso Succede anche Questo Tutto qua Esatto Bellissimo Consiglio Cercate Di emergere E di Non rimanere Troppo Scolastici Veramente Un consiglio Secondo me Da prendere Da farne Tesoro Devi comunque Sia Emergere Devi differenziarti È importante Sì Allora Si emerge Si emerge Anche con uno stile Che è una cosa Che io insegno Nella mia scuola Per non Per non rimanere Così Impalpabile Io devo sentire Qualcosa Che non sia Solo una voce Devo sentire Un'anima Devo sentire Uno stile Perché In base a quello Io So Individuarti Riconoscerti E capire Dove io posso Lavorare Con te E dove tu puoi Lavorare E migliorare E' chiaro Che non si può Pretendere Uno stile A 18 19 20 anni Ma non è vero Perché c'è In nuce Qualcosa Che può Emergere Per quello Dico Non 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 vi abbattete Ma lavorate Molto su questo Perché poi I risultati In qualche modo Arriveranno È anche una questione Di forza Di carattere Perché se non c'è carattere C'è anche poca Poca Fuffa Poca Poca Capito E quindi risulti Dimentico La tua voce Dopo Che l'ho ascoltata Ecco Questo Ok Va bene Seconda domanda Andrea Sì La seconda e ultima domanda È stata fatta Da roba Da doppiatori Ti chiedono Potendo ricominciare Da capo La tua carriera Cambieresti qualcosa O rifaresti tutto Esattamente Come l'hai fatto Andrei tutte le sere A cena Con i Con i clienti Con Con Il capo edizione Porterei la figlia Al mare In barca Insegnerei nuoto Visto che sapevo Ero istruttore di nuoto Insomma Farei molte più cose Di questo genere Curerei molto Questo Questo aspetto Perché ho scoperto Che è Un buon 60% Ecco Però no Adesso a parte Gli scherzi Ma neanche troppo Non lo so Forse avrei Se avessi potuto Avrei iniziato Molto prima Ad affacciarmi Al doppiaggio Ecco Questo Io ho iniziato Il doppiaggio A vent'anni Quindi Ho visto Che c'erano Molti doppiatori Che Praticamente Da bambini Quasi in fasce Sono stati messi Lì a leggio Oggi parlavo proprio Riccardo Rossi Perché stiamo doppiando Chicago Fire E lui raccontava Che non sapeva Lui faceva Uno dei tre gattini Degli aristocatti Stocatti E non sapeva ancora leggere Perché aveva Forse Sei anni A sei anni Ma in prima Adesso Ce li mandano A tre anni In prima Scherzo Però Sempre prima Però Lui non sapeva leggere Per cui Pensa tu Che esperienza Che cosa bella Anche se Lì Molti di loro I ritmi Non erano Quelli di oggi Però Molti di loro Hanno rinunciato A una parte Dell'infanzia A una parte Giocosa Dell'infanzia Se non hanno vissuto Il leggio Come un gioco Perché la cosa importante Soprattutto per un bambino Che si approccia Al doppiaggio E fargli capire Che è un gioco Così come La recitazione No? Certo Non puoi imporre Regole O cose particolari Devi farlo Crescere Nel gioco Tutto qua Vabbè Chiaro Chiaro Grazie Per la risposta Allora E Ciao Tocca a voi Chatt Chatt Ok Possiamo partire Col nostro Jingle Trash Sì Mamma mia È il momento Del jingle Trash Siete pronti? Non per la voce Ragazzi della Chatt Mamma mia Mamma mia Hit Hit mondiale Che Ormai è diventata Tormentone Allora La prima domanda Che vedo È di Lost Boy Under the Wood E chiede Buonasera Come è stato Doppiare Groot E Luca E in Luca Massimo Marcovaldo Quindi È una doppia domanda Paraculo Però vabbè Te la facciamo passare Quindi Le esperienze Di doppiaggio Che ha avuto In Groot E in Luca Con Massimo Marcovaldo Ma Groot Sai La cosa divertente Di Groot Era che diceva Sempre la stessa cosa Io sono Groot Però la cosa Bella Di questo Io sono Groot Era che Ogni volta Dovevi dare Un'intonazione Un'intenzione Diversa Per farti capire Su quello Che lui chiedeva Perché poi c'era In questo caso Bianzante Lui parlava E comunicava Solo con Che è Navovolpe Che è Un curetti Un procione Il grandissimo Rocket Esatto Comunicava solo con lui Quindi dovevi avere Sembrava semplice Ma non era sicuro Che non era semplice Dover dire Io sono Groot E qualunque cosa Era diversa Cioè Dovevi Dovevi dare Un suono Un'intonazione Diversa Un po' più complicato Quando è diventato Piccolo Piccolo Eh infatti Mi chiedevo Quando è diventato Piccolo Piccolo No l'hanno trattata Però io Non facevo più La voce di Vin Diesel Perché era Groot Era Vin Diesel In originale E lo facevo Un po' più leggero E già lo facevo Io sono Groot Invece di fare La voce In savolta Io sono Groot E va beh E Marco Valdo Marco Valdo È stato Dai Abbastanza Semplice Tra l'altro Mi è piaciuto Molto Quel cartone Perché L'idea Di vedere La riviera Ligure Quei sapori Diciamo Sono stati anche Abbastanza bravi Gli americani A fare Questa ricostruzione Molte cose Erano abbastanza Veritiere Reali E niente Marco Valdo Poi veramente Parlava molto poco Sì Probabilmente Ha parlato più In Mi chiamo Alberto Sì la serie Nella miniserie Che è uscita Dove Lui fa proprio La figura paterna Effettivamente Ma lui Ma Ronaldo Sì dice Quattro parole Sì sì Sei sempre tu Sto a posto Probabilmente Te l'hanno fatto Doppiare Tutto insieme Sì sì No no È vero Hai ragione Sì sì Ti dice Quattro parole Però parla Molto di più Rispetto al film Fondamentalmente Però è un personaggio C'era una piccola parte Cantata E tra l'altro Ringrazio ancora Il maestro Ernesto Brancucci Che purtroppo Ci ha lasciato da poco Dove Anche lui È stato Un grande maestro Io non Non nasco come cantante Ho questa grande passione Ogni tanto Canticchio Ma Non sono un cantante E lui mi ha aiutato Tantissimo Da Insomma Svariati film Che abbiamo fatto Da Gamba di legno Winnie the Pooh Dove cantavo Il bufetto Insomma In Marcovaldo Uffa Uffa è vero Bellissimo In Marcovaldo C'era La Lorena Le figlie di Ernesto Che sono Bravissime Anche loro Cresciute Nella musica E quindi Stanno seguendo Le orme Di papà Ernesto E questa è una cosa Che mi dà Molta fiducia E felicità Perché Le tradizioni Vanno portate avanti La qualità Poi Sopravvive In un certo senso Esatto È la cosa È vero È vero Ciao Montino Montino dice Non è un procione Il procione In realtà è un mammifero Da spazzatura Come lo chiama Starlord Rock Però Ma scusami Vai spanchi Mi è rimasto il dubbio Su Groot Ma tu nel copione Hai scritto Cioè c'è scritto solo Io sono Groot O c'è il sottotesto Che ti dice cosa intende No 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 Non c'è nessun sottotesto Ah ok ok E se non l'ha visto Un altro film Scusami No perché Solo lui Ero che te lo capiva Lo sogrutto C'è un direttore Che è Marco Guadagno E laddove magari Non arrivavo io Arrivava lui E comunque Marco pure Ci lavoro Da 40 anni E c'è Un'ottima collaborazione Per cui Abbiamo cercato Di fare meno danni possibili Il doppiaggio È cercare Di fare meno danni possibili Perché è un'opera Già fatta Chiaro Che poi La cosa bella Non so se tu l'hai visto Per quel video Ma è uscito un video Di Vin Diesel Che doppia tipo In 18 lingue diverse Tra cui il cinese mandarino Lo fa in francese Lo fa in spagnolo Ma non la fai in italiano Cioè È proprio Perché mi ha telefonato Mi ha detto Guarda stai tranquillo Io sono contento Che la fai tu Esatto Esatto No però l'ho conosciuto lui Ah Che bello A Porta di Roma Quando hanno lanciato C'era pure il povero Walker E c'era L'altro attore nero Che non mi ricordo Come si chiama Therese Ne sa Therese Gibbon Bravo E lui stava lì A Porta di Roma Doveva lanciare questo film Che doveva andare In contemporanea In 4 o 5 sale Me l'hanno presentato Me l'hanno presentato Ci ho parlato Ma ha detto Se gli dicevo Qualche parola in italiano È stata una bella È stata una bella esperienza Bello Quindi è uno di quei rari E meritati casi In cui la voce italiana Ha conosciuto Poi la propria controparte Sì Pure Stallone Ha conosciuto Bello Bello Siamo stati 3 ore lì Pure Stallone Hanno rivisto Pure in The Big Match Quello con De Niro Dove si menano Sì 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 Ed è abbastanza brillante Quella l'ho Insomma vabbè Piccole soddisfazioni Beh Piccole Grandi soddisfazioni E anche tanto piccole Esatto Piccole e grandi Soddisfazioni Beh Mauro Non ha ancora citato La sua chiamata E non la citerò Sennò poi mi prendete in giro Quando dico che io Sono stato un'ora Con Ryan Reynolds E Josh Broly È una grande soddisfazione Comunque Io sono stato Andrea Io sono stato un'ora Con Ryan Reynolds E Josh Broly In becca Va bene Tu che cosa hai fatto Quando li hai doppiati però Hai presente quello di Big Ben Theory Quando fa Io sono stato nello spazio E tu che cosa hai fatto Esattamente la stessa cosa Io C'è una quote che recita Gli hai toccato solo il braccio Mica e scrive che Sì ragazzi Allora per chi non lo sapesse Dato che me lo chiedono in chat Mi hanno invitato A un evento promozionale A Roma vicino al Colosseo Riguardante Deadpool 2 In questo evento C'era Ryan Reynolds E Josh Broly Le direttive prima di entrare erano Eravamo una quarantina Cinquantina massimo Di influencer Le regole prime di entrare erano Mi raccomando Non lo toccate Non la guardate Non interagite Al che già Insomma Vado là per creare contenuti Non posso toccarlo Poi è casa voluto Che noi stavamo in un cortile Ma proprio un cortile piccolino Sarà stato 10 metri per 10 Arriva Ryan Reynolds Arriva Josh Brolin Io ce l'ho davanti Dico no vabbè Chi se ne frega Tanto male che vada Non mi chiamano più Gli ho iniziato A rompere il ghiaccio A parlarci A parlarci E a chiedergli una foto Cosa proibitissima Dalla 20th Century Fox Io ho detto Che mi frega Cioè All'occasione di avere Ryan Reynolds davanti Ce l'ho adesso Non ce l'avrò mai più Quindi sono stato là Ci siamo fatti Quattro chiacchiere Ci siamo fatti anche Due tre selfie Mi ha firmato Il DVD di Deadpool 2 E altre cose E poi è stato molto carino Perché lui Fatto poi La creazione di contenuti Insieme a noi Ha detto Insieme a Josh Brolin I manager stavano Spingendo Per buttarli A fare interviste Con la RAI Lui ha detto Io non me ne vado di qui Finché non ho fatto Quattro chiacchiere con tutti Ognuno dei presenti Non ci avrà almeno Una foto O un mio autografo Quindi è stato lì Con noi Un'ora Buona A chiacchierare A farsi autografi Questa è anche Promozione Quello che non capiscono Molti social media Molti manager Che stanno dietro A questo tipo di Attività E che Poi sì Vai sul TG1 Un'ora è importante Però il passaparola Che poi genera Una cosa del genere È enorme Perché Quindi è stato molto carino Molto disponibile Ma poi ha maggior ragione Quando tu fai Che cos'è il fan Che vorrebbe vedere Tu immagina Non lo so Immagina domani esce Fast and Furious 10 No Tu fan Che vai lì Che cos'è Che vorresti vedere Effettivamente Vuoi vedere Vin Diesel Che parla italiano Quindi vuoi vedere Siccome Vin Diesel Non può parlare Cioè Non può parlare Con la stessa voce Con cui tu lo ascolterai Ovviamente Che non è la sua Vuoi vedere Vin Diesel E Massimo Corvo Che stanno Nello stesso spazio No Quindi Questa Non è il Cosa mi fa comodo A me È cosa vorrebbero vedere I fan Cosa vorrebbero vedere Le persone Che poi Spenderanno 10 euro 15 euro Quello che è Per andare al cinema A vedere il film Cioè Questo dovrebbe essere Il ragionamento E invece No Metto 4 persone lì Che io personalmente Spesso non so neanche chi so Perché poi non è che Seguo tutti i mondi Quindi magari è uno Che lavorava a radio Però non lo conosco Sta là Se fa 4 selfie Boh Hai fatto l'evento promozionale Non funziona così Non funziona così Esatto Esatto E vabbè Piccola parentesi Quindi non me lo richiedete più Perché se no Vi parlo a ruota libera Di questo Allora Un'altra domanda Che vedo È di Roberto Pesco a caso ragazzi Salto Cioè Già Praticamente salto Vuol dire che vado sui ruoli E sulle domande Che mi piacciono Questa la faccio Solo perché so Quanto sei fan Del trono di spade Vorrei fare i complimenti Al signor Corvo Per la sua carriera E chiedergli Com'è stato doppiare Il ruolo di Ned Stark Nel trono di spade Con l'ansia E la paura Di morire E con lui Come ogni ruolo di Shambin Credo Credo che sia stato creato Anche un gruppo di fan E noi vogliamo Shambin vivo Perché non è possibile Che lui Questo ogni volta Che va avanti Un pezzetto Anche nel Signore degli Anelli È una condanna È una condanna È a fine Primo film Morto Insomma Mi serve uno che muore No è un attore Che doppio volentieri Usando delle corde Un pochino più leggere Lavorando un pochino più Sul fiato Non troppo timbro Ed è un bravo attore Un bella faccia Che ti dico Come muore lui Nessuno Emozioni Io ne provo sempre Qualunque personaggio doppio Perché se tolgo quelle È finito Per cui quindi È stata È stata un'ottima esperienza Ripeto C'è sempre un po' di paura Morirà Questo Morirà Chi lo sa Boh Non si sa Dispiace No perché potresti Visto che poi Il Trono di Spade Non lo so Ancora c'è Stanno la trentaduesima stagione Non lo so Non lo so È terminato Si è concluso Male ma si è concluso Male ma si è concluso Quindi pure lì Insomma è un peccato Però ecco ripeto È un attore che faccio sempre volentieri Allora Gaetano Ciao Gaetano Buonasera Man e Massimo Ciao buonasera a te Com'è stato doppiare Glenn Shedix in Beetlejuice Spiritello Porcello? Grazie mille per la risposta Sarebbe Otto No vi ringrazio Mi ripeto il nome? Gaetano Vi ringrazio molto Gaetano Perché è andato a trovare un reperto di qualche anno fa Dove io ho doppiato un carattere Perché questo personaggio che si chiamava Otto Ed era l'architetto gay di questa famiglia che doveva ristrutturare in maniera assurda Non so se avete visto il film Comunque ve lo consiglio Per chi non l'abbia visto Ed è stato divertente perché ancora non avevo intrapreso l'era degli eroi Dei divi, dei miti, dei duri eccetera E mi stavo misurando con un carattere Cosa che io faccio sempre molto volentieri Così come quando faccio Oddio come si chiama L'attore dei Flintstone Come si chiama Non ho capito chi è però John Goodman John Goodman Sì, sì, John Goodman Mamma mia Pure lui, pure quello L'attore che faccio con molto piacere Perché non sono Oh, premetto che amo fare anche quello che faccio Sempre Però mi diverto molto di più A fare questi personaggi che sono caratteri Capito? Che può essere John Goodman Che può essere questo Otto Che può essere Io doppiavo anni fa anche un certo Ernest P. Worrell Che era una sorta di Jerry Lewis degli anni 90-2000 Che poi, non so Però l'ho doppiato in 5 o 6 film Dove lì era veramente tutta un'altra cosa Capito? Quindi è divertente È bello fare qualcosa Che non sia sempre quella solida Comfort zone Anche perché poi ti mettono un'etichetta Questo non lo può fare Può fare solo quello Invece noi siamo attori Doppiatori che Alla bisogna Cambiano voce Esatto E seguono quello che stanno doppiando Tutto qua È vero Luciano Il Goodman è il cattivo in una notte da livello in 3 Sì, hai ragione Andrea ti chiede Non l'ho fatto io lì Non l'ero io Male, molto male Molto male No, no, no Però a livello di attore A livello di attore È vero lui John Goodman Io l'ho fatto in un corpo dareato Nei rubacchiotti E non mi ricordo All'altro paio Però non mi ricordo Andrea Crea25 chiede Buonasera a tutti Massimo ha diretto due serie Che sono su Disney Plus Che ho amato particolarmente Godfather Of Harlem E Dobsic Dichiarazione di dipendenza Volevo chiedergli Come sono state queste due esperienze Di direzione del doppiaggio Aggiungo anche Visto che è abbonato a Disney Guardati anche Legion Che è una serie psichedelica Della Marvel Un po' diversa Della serie Marvel Che ho diretto pure quella Dunque come è stato? È stato bello E quando prima mi domandavate Il lato buono Il lato cattivo Della direzione Quello è il lato buono Perché il lavoro è straordinario È di grande qualità Ci sono grandi attori Ho chiamato dei grandi doppiatori Di comune accordo Con i funzionari della Disney E abbiamo fatto Credo un buon lavoro Infatti se poi lo dicono Bellissimo Anche gli altri Dobsic soprattutto È stato un prodotto Che io ho amato E che ho seguito Proprio Con il giusto tempismo Di uscita delle puntate È bellissimo Bellissimo E poi tutte grandissime voci In realtà Grandissime voci Sono stati tutti molto bravi Veramente molto bravi È un piacere È un piacere Quando si fanno questi tipi di lavori Poi sai È importante Che il doppiatore Che va alle giro Sia disponibile Non sia La divinità Che sta lì E ti fa un favore Questo Fortunatamente Succede Molto raramente Però Devo dire Che Quando trovi Questa collaborazione Questa disponibilità È un piacere Proprio Dirigere Il lavoro Poi è stato bello Perché tra l'altro Dopsic È stata una serie Che ci ha consigliato Luca Biagini Sì Quando è venuto Ospite da noi Eh sì Lui faceva Michael Keaton Ed è stato bello Perché Nel primo episodio Tipo la mia mente Inizia a dire Ok Da un lato C'è C'è Michael Keaton Quindi c'è Luca Biagini Poi c'è Emanuele Melli L'attore Non mi ricordo Come si chiama Ma è quello Che interpreterà Poi Adam Warlock Nel prossimo Guardia della Galassia Will Powler Will Powler Sì Poi c'era Laura Romano Che faceva invece La gente Che vuole E poi c'era Loris Loddy Che invece fa Il leader Diciamo Il cattivo Nel senso della storia Nella mia testa C'era una partita Ping pong Richard Sackler Sì Vero La fondi voci Che Ti sa La cosa bella Era che Alla fine dicevo Ok ma Ah questo è l'ospite Che abbiamo avuto Nel ventesimo episodio Cioè Alla fine Ho messo tutti Gli ospiti In fila Nel senso È stato fighissimo Perché In un certo senso Ho goduto doppiamente Ascoltando Le loro voci Che poi Il prodotto È Già di base Secondo me Molto molto buono Sì Vero Andiamo avanti Che ci sono tantissime domande In poco tempo Quindi cerco di farne Il più possibile Questa mi ha fatto ridere Una domanda Luciano che scrive Vivo la mia vita Un quarto di Man Under The U Dalla volta Carina Luciano Questa mi è piaciuta Allora Luca Cola 02 Domanda per Massimo Massimo è uno dei doppiatori Della mia infanzia Reputo che lui Insieme a Alessandro Rossi E Stefano De Sando Sia una delle voci Più profonde E belle del doppiaggio Le mie domande Per Massimo Erano Che ricordi hai Del doppiaggio Di Sean Bean Nel Signore degli Anelli E cosa ne pensi Dei film La seconda domanda Alla quale abbiamo Già risposto in parte La voce di Groot È la sua Ma parla proprio così È modificata digitalmente Come è per Vin Diesel Quindi per Baby Groot Abbiamo già detto Che è stata Modificata Modificata Certo E invece per il grutto adulto È la tua O anche lì Ha avuto delle Sì non so Se l'hanno comprensa Se hanno fatto Dele modifiche Questo non te lo so dire Però Sì Ok Non mi sembra No non mi sembra E anche quella di Sean Bean Abbiamo risposto Ah no Quella era per il trono Sì era per il trono Adesso ti chiedono Il Signore degli Anelli Vale un po' per tutti I suoi film Il Signore degli Anelli Sì Vale più o meno La risposta è la stessa Sì Posso aggiungerti Che era la prima volta Che doppiavo Quell'attore A meno che Non ho saltato In qualcosa Di lavorazione minore Però mi sembra Che fosse stata la prima E' anche il tuo primo approccio Col suo morire sempre Sì Ma lì ancora non aveva capito Probabilmente No C'era Stato il destino Poi sai c'era un grande dialoghista E un grande direttore Che era Francesco Vairano Per cui È difficile anche sbagliare L'importante era trovare L'approccio giusto E la tonalità giusta Per quel tipo di attore Perché Ripeto Io Nella scuola Che ho fatto Mi hanno insegnato A Non a fare me stesso Ma a fare A essere al servizio Di quello che stai doppiando Per cui Cercare proprio quel suono Quella tonalità lì Ecco io Penso Spero di aver fatto Un buon lavoro Su quello Bene Beh Sicuramente sì Almeno da fruitore Siamo stati Cioè Abbiamo avuto Delle emozioni Anche Soprattutto poi Nel film Nel momento Poi della sua morte Perché all'inizio Era un personaggio Molto Come dire Molto ambiguo In un certo senso Che non sapevi se Fare il tifo per lui Oppure no E poi invece Alla fine Quando abbiamo visto No Come si è comportato Penso che tutti Abbiamo detto Allora Domanda Questa è una bellissima domanda Anche perché non si era ancora Trattato l'argomento Matrix E potevo essere Molto offeso Da questa cosa Jackie ti chiede Doppiare un film Come Matrix Deve essere stato Molto complesso Cosa ti affascina Di più Del personaggio Di Morpheus Personaggio meraviglioso Tra l'altro Dunque Cosa mi affascina Cosa mi ha affascinato Di più Morpheus È stato A parte La singolarità Del film Che stavamo facendo Perché era qualcosa Di veramente Avveniristico Che poi molti Hanno utilizzato In tanti altri film Però era Un personaggio magico Perché Conoscendo Fishburne Che avevo doppiato In tanti altri film Precedenti Era veramente Sembravano veramente Tutti ispirati In Matrix E' stato anche Abbastanza faticoso Perché Nio Faceva una domanda Infatti Con Luca Ward Quando all'epoca Ancora si poteva stare Tutti insieme All'eggio Luca faceva una domanda Dico Che cos'è Matrix E io parlavo Per un'ora Per cui Era Il personaggio Era anche Abbastanza faticoso Poi c'era Pino Polizia La direzione Che era Un grandissimo Direttore Esigente Quindi Centrato Proprio Sul pezzo E tutti noi Ci domandavamo Ma Questo film O fa il botto Oppure E' una cagata Pazzesca Che non capirà E non vedrà nessuno Ma ancora oggi Io sento persone Dicendo Ah io non l'ho visto Neanche uno Perché è proprio Un genere di film Che non mi piace E' come se tu Ad esempio Io amo la musica Tutta Non è che siccome Il rap Non mi piace Allora non lo sento Lo sento E poi dico No Non mi piace Però non puoi tu A prescindere Dire Ah no Quello è un genere Che io No Figurati La fantascienza Le cose Quello Quell'altro Però fortunatamente Poi invece E' stato Un grande successo Ed è stata Una bella emozione Ero molto contento Di farlo E così come Sono stato contento Di fare il secondo E il terzo Un po' Mi dispiace Che adesso E' uscito Questo nuovo Mi dispiace un po' E Fishburne Non c'è Come è stato Che sempre Il destino Un po' Di Di Sean Bean Evidentemente Perché non hanno chiamato lui Non si sa Non lo so Andrea informati Chiama il produttore Facci sapere Andrea informati Il nostro uomo Io mi faccio Bannà O contatto Esatto Andrea vai Domanda di Willow Allora io Direi Prendo le ultime due domande E poi Facciamo la nostra conclusione Andiamo in chiusura Willow by the river Domanda Lavorare sulle intenzioni Dovendo Anche questa Abbiamo Risposto parzialmente Però Sono curioso Non in questi termini Nel senso Lavorare sulle intenzioni Dovendo pronunciare Unicamente Io sono grutto E' più impegnativo Rispetto a farlo Su battute più variegate O le parole Alla fine hanno solo Un peso relativo No Come fanno Le parole Non hanno mai Un peso relativo Dipende Da chi le interpreta Dall'attore che trovi Però E' stato Sì E' stato complicato E' stato anche divertente Perché era un gioco No Non è Un impegno Mortale E' stato divertente Però è stato Sicuramente Più faticoso Di un copione normale Insomma Dove hai la possibilità Di interpretare una cosa Perché c'è un concetto Preciso Con un inizio E una fine Chiaro Chiaro E Questa domanda invece E' di Luciano Su Bruce Willis Come è stato Doppiare Bruce Willis Nel quinto elemento Uno dei film Più belli Secondo me Di Besson Un film tra l'altro Molto sottovalutato E Io non lo vedo mai In onda Non lo vedo mai Non viene mai Trasmesso Questo film Stiamo parlando Di Luc Besson E di un capolavoro Che lui teneva Nel cassetto Da anni Ci ha lavorato Tanto Ed è stato Divertente È stato bello Tra l'altro poi L'ho fatto con Tonino Acolla Come direttore Dialoghista Eravamo molto Amici con Tonino Eravamo legati E mi ricordo Che una sera Vennero Venne a casa mia E ci vedemmo Questo film In anteprima In originale Per capire Proprio di che Si stava parlando Quindi I tempi Quando si vedevano Prima Io C'ho Un legame Particolare Su questo Questo film E C'ho Molti ricordi Belli Proprio Di Del quinto elemento Anche perché Il film E mi è piaciuto Molto Quindi Oltre a fare Questo meraviglioso Mestiere Che facciamo L'idea Di fare un film Così bello E affezionarsi Poi a questo film È Un'emozione Unica Assolutamente Allora L'ultimissima 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 Da Steph Albe 87 Con quale attore Ti senti più tranquillo Nel doppiarlo? Non è uno solo Non è uno solo Sicuramente Non Costallone Perché C'ho sempre La voce di Ferruccio Nelle orecchie Jean Reno Ad esempio Jean Reno È un attore Che riesca a fare Con tranquillità Sempre tutto Tra virgolette Perché non c'è mai Questa tranquillità O Fishburne Morfeus Morfeus Un attore Morfeus Anche Vin Diesel Devo dire la verità Oppure lui Forse perché non offrono sorprese Non lo so Però 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 Più o meno Sono questi Ok Ok Grazie Allora Chiudiamo Le domande Dalla chat Molte Spero che comunque Siate contenti Ho cercato di prendere Un Di non prendere La stessa domanda Dalla stessa persona Più volte Così almeno Più persone possibili Sono state felici Non tutte Però Il tempo è questo Ragazzi Purtroppo Fosse per me Stare a sentire Massimo 15 ore Però Insomma Non sequestriamo I nostri ospiti È la prima regola È la prima regola Dice Aldo Gianni e Giago Comunque Allora L'ultima domanda Che è la nostra conclusione Di tutte le live È questa Io ti chiederei Uno o più aspetti Del mondo Della recitazione In generale Ma del doppiaggio Nello specifico Che non ti piacciono E che vorresti Fossero diversi Insomma Uno già ce l'hai Anticipato prima Che è il tempo No Sì Di cui parlavi C'è altro Che magari Ti senti di aggiungere O No Ma hai detto Della recitazione In generale Sì Anche O la tralascio Come preferisci Puoi fare quello Puoi fare La recitazione In generale Purtroppo Non voglio Far problemi Che non voglio Creare cose Certo C'è da dire Che è molto difficile Entrare in quel mondo E riuscire A lavorare Mentre invece Ecco Il doppiaggio Gli aspetti Che non vanno L'ho elencati Prima Io mi auguro E spero Che i miei colleghi Soprattutto Quelli più attempati Riescano A difendere A difendere Questa Questa professione A proteggerla E ad avere E ad avere Anche un po' Più di coraggio Proprio nelle scelte Che si fanno Perché se no Rimarremo Sopraffatti Da tutto il contorno Che c'è E che ormai Stabilisce E decide Un po' Troppo Faccio un esempio Piccolo Breve Quando io Iniziavo C'era Un direttore Non so Inutile fare il nome Certo Si affacciò Un capo edizione Diceva Vorrei Seguire No No Mi dispiace Chiudo la porta Lei aspetta fuori Quando il prodotto È finito Ha tutto Il diritto Di criticarlo E se non va bene Rifacciamo tutto O lo fare O lo fare Rifare un altro Tutto questo Adesso Non è più possibile Ho capito Basta Non raggiungo altro Questo è quanto Perfetto Perfetto Grazie della risposta Allora Andiamo in chiusura Andiamo in chiusura Ragazzi È stata una bellissima diretta Come al solito Vado a fare I ringraziamenti Del caso Perché sono Più che doverosi Ringrazio i mod I mod Per l'ottimo lavoro Che sempre svolgono All'interno della chat Hanno sempre L'occhio vigile Pronti a intervenire Dove c'è da intervenire Pronti a fare in modo Che in chat Si crei un clima sereno Cordiale Educato E noi siamo molto fieri Della nostra community Quindi grazie Abbiamo anche Un ringraziamento Ovviamente A tutti voi Che l'avete seguita Fino alla fine Ai VIP Ai miei streamer Di questa sera Quindi André Spanchi Però insomma Il grazie più grande Va ovviamente A Massimo Alla sua disponibilità Alla sua cortesia E alla sua E grazie Soprattutto per averci raccontato Di più Sulla persona Dietro al professionista Quindi speriamo che ti sei trovato bene Insomma È che hai passato Due ore Due ore piacevoli Sì sì Complimenti Poi mi spieghi Chi sono tutti I moves Che sono esseri umani I mod Sono I mod Sono dei moderatori Sono dei moderatori Ossia sono Ne abbiamo quattro Sono Quelle persone Sono i nostri Sono i nostri gargogli A protezione del castello No perché volevo ringraziarli Però c'è un po' di paura Perché dico Non so Che Che razza No no Ringrazio persone reali Vada ringrazia gente così Magari sono delinquenti E risulta Massimo Corvo Ringraziato Noi andiamo Allora ragazzi Vi lascio Ci vediamo domani O ci sarò da solo Però sarà la vostra occasione Per farmi tutte le domande che volete Giocheremo insieme a Marvel's Avengers A Guardia nella Galassia Questo lo decideremo domani E poi avremo giovedì Cateco Sorrentino E venerdì un bellissimo salotto E poi tanti altri ospiti Giorgio Vanni Claudia Razzi Abbiamo tanta 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 roba Quindi continuate a seguirci Mi raccomando Facciamo A chi facciamo il raid? A chi? Chi ci mao? A Nissolino? Beh beh direi a Nissolino Dai Allora un altro bravissimo doppiatore Che adesso sta giocando A Grand Theft Auto 5 Quindi ragazzi Ragazzi Fate gli nostri saluti Dite spammate emoti Condividete il nostro affetto Anche da parte nostra Con Nissolino Con il nostro grandissimo amico Alessio Nissolino Esattamente Ciao Alessio Un saluto a tutti Ciao ciao Buonanotte Grazie a tutti Grazie a tutti